ecco vai che ci siamo quasi stanno arrivando e pronto ok andiamo ci stanno venendo da prendere scusami e 10 così non diciamo in giro che ci conosciamo perché c'è la festa quella cercata di spinelli ma non l'ho trovata e quindi preso questa da già come figli di fio una volta c'è già degli spinelli no non è illegale anche ma poi ci manca che ti droghi tu ti immagini ma ci manca che dipende proprio gli spinelli no quegli spinelli lì lo spinello è la parola desueta di oggi che vuol dire strafatti proprio no lo spinello è una pietra una pietra preziosa che assomiglia al rubino quando è di colorazione rossa però c'è anche viola tira al nero ma cristalli si fumano ma non è quel cioè non è non si chiamano spi si chiamano proprio c'è altra cosa ma no ad esempio uno spinello molto noto è quello che c'è in inghilterra no è quella pietra rossa che c'è in inghilterra sulla corona imperiale quella dell'impero ecco perché quelli sono un poco perché sono di famiglia di proprio strafatti da da mo e spinello è la parola desueta di oggi ma quindi niente sono arrivati dai diamo diamo dai che sei pronto prendi la borsa ma sei lucida grazie